Ciao a tutti Io mi chiamo Menani E ho 9 anni Quasi 10 Viva Belle E sono entrata proprio oggi nel canale Youtube E in questo video Non farò niente di che Vi spiegherò cosa farò negli altri prossimi video Slime in primis Challenge E tutto In questo video Sono da sola a spiegarvi Poi ci saranno gli altri video Che non sarò solo Ci sarà una mia migliore amica E niente Per ultimo vi dico Iscrivetevi e mettete tanto i like Ciao